Ad Amatrice come Ampas, Associazione Nazionale Pubblica Assistenza e Club Alpino Italiano per un ulteriore passo di un percorso comune per ricreare occasioni di vicinanza, di comunità, di contaminazione fra persone di Amatrice ma anche di tutta Italia per ricostruire. Noi siamo stati nell'emergenza ma vogliamo esserci nella continuità di una ricostruzione di una bellissima zona dell'Italia che con le sue montagne darà assolutamente ulteriore lustro alla nostra Italia, alla nostra comunità. Viva i volontari, viva il Club Alpino Italiano, viva l'Ampas per una società più giusta, una società migliore.